Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita E bentornati qui da Pianeta Hobby con un nuovo video spacchettamento Sempre con... D'Arz! E... Merca! Oggi allenatori andremo ad aprire in questo Versus Pack Opening A3 Un intero box del nuovissimo set Sole e Luna Mamma mia! Ci stava, vero? Ci stava troppo Tantissimo Quindi allenatori, sin da subito un bel pollice in su Contemporaneamente in questo momento sono usciti su tutti i canali Sia di Pianeta Hobby che dell'Arz Lo stesso video perché sarà... Esatto, perché divideremo il box 12, 12 e 12 bustine per ogni canale Quindi dopo questo video Parrete anche sul mio e sul canale di Pianeta Hobby A vedere gli altri due video Sempre con noi tre E vediamo chi vince E vediamo chi vince perché questa è una sfida E lo sappiamo tutti che nelle sfide Chi è quello che è più sculato? Sculo D'Arz, sculo Federico, sculo Merca Eeeh, vedremo, vedremo Guardando tutti e tre i video E l'ultima sfida? L'ultima sfida chi l'ha vinta? Ehi, ciao! Di evoluzioni Oggi è sole e luna Quindi spacchettiamo con la mia unghia No, non si taglia niente Io ne ho tagliate da poco Ho spaccato tutto la... Siamo pronti Pronto, l'inizio prima io a scegliere Perché l'altra volta ho lasciato i pacchetti Mi sarei presi tutte le full art Sì, si, sempre le solite scuse Vabbè, vabbè Ecco qui ragazzi Guardate anche con la Professional Cam in Super HD Mamma mia che benessere Ok ragazzi Io prendo Sono quattro a testa Uno, due, tre e quattro Vai A te faccio scendere dopo Perché le full art Vai Uno, due Lo sa che in quelli di Solgaleo ci sono le carterane? Mamma mia Vedi, vedi Lui lo sa Lo sa perché le ha aperti già in box Allora Vai Daniele Vediamo cosa prendi tu Uno, due, tre e quattro Ah, gli ultimi? Gli ultimi Io a caso Lui Solgaleo E io gli ultimi Perché tanto lo sono Saranno loro a venire da me Bene allenatori Eccoci qua Questi sono i nostri bei pack Guardate quanto sono belli Ne troveremo qualcosa Lo scopriremo tra poco Quindi Iniziamo da me o da Merca? Iniziamo prima da The Lars Federic Merca Perfetto Giriamo una carta per uno E la mettiamo sul tavolo Vai Io inizierei con Desi Dwyer Inizio anch'io con Desi Dwyer Desi Dwyer Iniziare perché Oh vabbè Solgaleo 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 O Solgaleo Ok vai Spacchettiamo Ok I codici li teniamo per noi Così che facciamo qualche pack opening online Quindi i codici li mettiamo qua Allora Il trick Qui come funziona Allora Uno Due Tre E poi queste due Però questa va sopra Perfetto Che top Che top Vai Ragazzi andiamo a vedere cosa troviamo Siamo pronti? Allora li dobbiamo girare per così eh Sì Per così Siete pronti? Surs kit Energia Wingull Spinda Vai prima di me Vai Snubbull E' vero Poplio Pozione Carvagna Growlithe Ipro Zubat Grabbin Questo non è male Vai Poplio Oranguru Reverse Vai Meo Mi sa che ho sbagliato qualcosa No tu hai sbagliato qualcosa Io non lo so Ok Arachnid Growlithe Repellente Spinda Roganrola Flipper Liam Liam Cosmog Pokeworld Oh oh Tukennon Tukennon Vai 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 No niente Energia Tu c'è qualcosa Vai via una comerca Oh ragazzi Attenzione Attenzione Vediamo un po' che c'è Vai Vai Ganshul GX Per vedere Non è una full art Ma è una GX Quindi è un punto C'è ragazzi Sculofedric Potrebbe portarsi in vantaggio Nel suo video Attenzione Donald Trump L'ho beccato Ma aspetta che sia ancora Il primo pacchetto Ancora il primo pacchetto Non cantare vittoria Troppo presto Adesso io prendo Sol Galeo Io vado a prendere Lunala E lui Sol Galeo Perfetto Come al solito Comunque era giusto Il mio trick allora Era giusto Perfetto 1 2 3 4 E basta Ok perfetto Codice 1 2 3 4 Krab roller Bonswit Lila Vai sempre prima di me Mereni Lila Bonswit Digletta Lola Dratini Digletta Lola Dupider Wango Dratini Miao di Alola Stafor Castello di Sabbia Stini Reverse Ok condivisa di esperienza reverse Quindi credo sia giusto Perfetto Energia Energia metallo Condividi esperienza Thor Racket Thor Racket Persian Spinial Metafod Vai Lilia Acchiappa Pokemon E' un Cloyster Io raga Un Cosmogen Cosmogen E lui E' un Crobatolo Crobatolo Mezzo punto le holo Attenzione Sto perdendo Però non mi va bene che poi mi recupera con due holo magari Cioè ragazzi Facciamo così però Se non trova la GX Non può vincere E' vero E' vero E' bella bella questa Ragazzi sto perdendo Nel video di Fede Perché poi potrebbe arrivare il mio video Intanto vinco io Qui Intanto Trova una bella hyper Perché se ne avessi interesse tre io Ragazzi voglio lasciarvi un po' di Capito Di partito Vai Il pacchetto di incinerore Credo che il trick sia Sia semplicemente così Uno due tre Quattro E metti sotto Basta Perfetto Pronto Siamo pronti Vai Merni Vai Energia Folletto Rovlet Rock and Rola Scambio Trozi Rattatoglialola Investor Kukui Cinchu Corsola Mapuita Paras Torkol Knobble Pinsy Reverse Yangoos Incinerore Reverse Energia Raulet Filippo Stragoneer Cosmogen Ultramo Venena Culeo Liliap Torracchette Ancora niente Dani Sono fallati Attenzione Oh Siamo più unico ragazzi Cos'è Cos'è S-B-O-G-X Mamma mia Ha trovato due GX Questa volta sono venuti loro da te Guarda che belline Metta cosa ha trovato Belline ragazzi Niente Ok Un Parasex Mamma mia ragazzi Eh allora De Lars Eh vabbè ma aspetta che arrivi il mio video Aspetta che arrivi il mio video Sculo Federic Eh vabbè Ogni tanto Ogni tanto Lo faccio giocare Adesso Adesso arrivo io Adesso arrivo io Ho trovato anche il polipir Ma che vuoi Mamma mia Anche il polipir Ultimo pacchetto di questo video Ultimo pack Vedi che Scegliendo per primo Eh vedi Vado per quello Desiduai ragazzi Vai Io invece Sol Galeo E anche Merca mi sa Sol Galeo Galeo Siamo pronti? Che desiduai ragazzi Ci vado del piccione Vai Uno due tre Uno due tre Quattro E metti sotto Vai Ok Togetemaru Energia Metallo Villipop Carvania Recluta Paras Piggyback Metapod Sandile Oh bello Grambull Litter Snubbull Snubbull O se avviciniamo alla fine Raga Poliwagreverse Ivi Crobatreverse Vabbè Energia Psyduck Erdier Erdier How Dime la Sade Vai Spirov Dartrix Dratini Caramela rara Pokeball Ok E niente Niente Cinque pacchetti di nulla Ah ma qui Da ragazzi Tu Ah Crocodile Olo Cioè Ha trovato due Olo Due GX E niente Cosa sta succedendo Siamo anche a farla vedere così In questo modo Guardate che bellina raga E niente Che dire di Lars Già Lo farai nel tuo video Io ragazzi Due GX Due GX Però aspetta E adesso Dovete venire Tutti quanti Sul canale di Lars A vedere se Ho trovato anche io Delle GX Potrebbe La ultra ancora Non è uscita Nemmeno una Siamo due Uno zero Vediamo se riesce a fare qualcosa Questa sfida L'hai vinta tu Sì Ma vedremo adesso Sul mio canale Su quello di pianeta hobby Chi vincerà la sfida Noi vi aspettiamo Un bel like Un commento E ci vediamo al prossimo video Fa come Ciao Nelatury Mi hai lasciato tutte le bustine fallate Grazie a tutti